Una coppia di studenti universitari milanesi in vetrina 24 ore su 24 per una settimana. È l'ultima frontiera del marketing che si realizza proprio ad Arezzo negli spazi di un noto negozio di biancheria in Corso Italia. Si chiama Cosy Room o Stanza delle Coccole, un metodo insomma efficacissimo per far parlare del prodotto ed in questo caso anche della città di Arezzo. Siamo offline proprio qui in vetrina che tutta la gente che passa ci vede e poi online perché tutto viene messo a vedere a 24 ore sul nostro sito dedicato e ci sono delle dirette Facebook. Insomma il pubblico può seguire quello che fanno questi due ragazzi davvero in tempo reale sia qua in città che appunto online e insomma Alberto ha questo primato diciamo di aver ospitato per la prima volta questo esperimento. No è una cosa simpatica io l'ho colta al volo quando me l'hanno proposta perché a parte come ho sempre detto oltre che essere una vetrina per il mio negozio in tutta Italia è anche una vetrina per la città di Arezzo perché si parla oltre che di Renato di Downestep ovviamente e delle altre aziende che partecipano a questa iniziativa anche della nostra città. E quindi tutto fa brodo, tutto per Arezzo questo ed altro e oltretutto anche per la nostra attività che viene messa diciamo in primo piano.